Bentornati al nostro appuntamento su Rete8. Oggi parleremo di un argomento che interessa ai nostri ascoltatori pensionati. Infatti il 1 luglio sono state erogate 3 milioni e 100 mila quattordicesime. Ovviamente anche nella nostra regione molti pensionati hanno ricevuto questo importo aggiuntivo rispetto a quella che è la pensione ordinaria. Vediamo un po' come funziona la quattordicesima e quali sono i requisiti. Vediamo per esempio quando viene percepita la quattordicesima. Abbiamo detto a luglio vengono pagate 3 milioni 150 mila quattordicesime senza presentazione di alcuna domanda e controlli automatizzati da parte dell'istituto. A dicembre 2019 verrà erogata sempre d'ufficio i rati di quattordicesima per i soggetti che maturano l'età richiesta cioè i 64 anni nel secondo semestre 2019 o che hanno avuto la prima pensione nel corso del 2019. Quindi questa era la prima finestra poi ci sarà un'altra a dicembre. Vediamo quali sono i requisiti. L'importo e il diritto della quattordicesima è determinato da tre parametri fondamentali. Abbiamo detto l'età i 64 anni. La contribuzione cioè quanti contributi si sono versati nella vita lavorativa e questo determina la differenza di importo e poi delle fasce di reddito. Per determinare gli importi abbiamo due macrofasce. Le pensioni più basse cioè quelle fino a 1,5 volte la pensione minima IMSS. Parliamo di un importo per capirci più semplicemente all'incirca di 770 euro mensili e poi le pensioni più alte cioè quelle fino a circa 1.000 euro mensili. Questo incrocio di informazioni permette di determinare quanto è l'importo della quattordicesima. Quali redditi devono essere valutati per l'anno 19? Ovviamente in caso di prima concessione tutti i redditi posseduti nell'anno 2019. Per chi invece aveva già avuto questa prestazione vengono verificati i redditi e pensioni conseguiti nel 2018. Vediamo nella prossima slide come viene operato da parte dell'istituto. L'istituto accerta automaticamente l'aspettanza sulla base di informazioni disponibili. Ovviamente i redditi 2018 o 2019 che sono quelli rilevanti come abbiamo detto non sono disponibili per cui al fine di non dover aspettare disponibilità di questi dati e assicurare la tempestività del pagamento si è andata a verificare i redditi degli anni precedenti. Ovviamente questo comporta che la somma è corrisposta in via provvisoria perché se ci fosse stato un incremento del reddito o una diminuzione del reddito la verifica definitiva sui redditi comporterà o un piccolo recupero o un'erogazione maggiore. Che succede invece vediamo nella prossima slide se non è stata corrisposta. Abbiamo detto potrebbe esserci il caso in cui i redditi non erano disponibili quindi non è stata erogata la prestazione. Ovviamente il pensionato può sempre presentare una domanda di costituzione o presso il sito IMSS.it ovviamente deve avere il PIN, lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi oppure rivolgersi agli enti di patronato che presteranno assistenza gratuita e sono i nostri preziosi collaboratori. La prestazione in questo caso verrà liquidata sulla prima rata di pensione successiva all'accoglimento. Vi ringrazio, direi che per la quattordicesima abbiamo fatto un piccolo approfondimento e arrivederci alla prossima puntata.